E' in partenza il fungo, c'è un funghetto in partenza, per un attimino avremo il nome della carta dei Puffi Sono i Puffi, l'equipaggio numero 25, arrivano da Cerie, questi ragazzi sono Francesco Lobianco, Luca Torgiate, Alessandro Farinetto Mentre i tappi 23 li abbiamo definitivamente salutati, ciao ragazzi, grazie, è stato un piacere avervi con noi la 23 inizio della carta E' dalla 23 inizio della carta, benissimo, i 25 Puffi proseguono la sua corsa con il suo bel funghetto Ovviamente sono tutti blu con il cappellino bianco, chissà se ce l'ha C'è ancora una Puffetta, che bella che sei Puffetta Bellissimi Ma sai che carca bella che li seguono Seguiti Puffi da Nervi Saldi, l'equipaggio numero 26, arrivano da Zena, da Genova l'equipaggio numero 26 Loro sono